Benvenuti amici di Lega Nerd in questo secondo appuntamento dedicato alla nuova serie Disney, Lucasfilm, Star Wars, The Bad Batch che trovate su Disney+. Oggi tocca questa mia piccola recensione, analisi, chiamatela come volete, ricerca di vari easter eggs e curiosità della puntata. Puntata cortissima, purtroppo dura una mezz'oretta, non di più, quindi meno della metà della puntata pilota di martedì, non della settimana scorsa, per cui settimana comunque fortunata in cui abbiamo assistito a due episodi, per cui si tornerà a venerdì prossimo. Serie animata sequel ufficiale di The Clone Wars, lo vediamo all'inizio quando il logo, nella puntata pilota, il logo Clone Wars si rovina lasciando posto al logo The Bad Batch, effettivamente comincia, li abbiamo visti anche nella settima stagione, questi The Bad Batch in realtà sono una novità, perché nelle altre stagioni di Clone Wars non c'era traccia di questi cloni speciali. Li vediamo, ma notiamo subito, sia nella puntata pilota che si confermi in questa seconda puntata, vediamo qualcosa di diverso, percepiamo qualcosa di diverso, anzi lo butto sul personale perché voglio discutere sempre meno, percepisco qualcosa di diverso a livello di struttura narrativa, a livello di regia, a livello di dialoghi, a livello di tempi, a livello di ritmo, ve l'ho già detto nella puntata di martedì, ve lo ridico oggi, è un prodotto molto più maturo e molto più adulto del vecchio del Clone Wars ed è estremamente gustoso da osservare, se dovessi fare un paragone, credo di averlo anche già detto, mi sembra più di guardare un prodotto del Marvel Cinematic Universe che una sorta di proseguimento di The Clone Wars o anche di The Mandalorian, non so se mi spiego, mi sembra molto più maturo questo di The Mandalorian. È come, non è come, io spero con tutto il cuore che Lucasfilm abbia trovato la quadra e che questo sia il nuovo modo, il nuovo trend di raccontarci le storie della saga di Star Wars, per cui mi aspetto, spero con tutto il cuore, che anche Obi-Wan, The Book of Boba e via dicendo, abbiano questa sorta di maturità che io adoro. Falcon and the Winter Soldier, WandaVision, hanno quel tipo di racconto narrativo, quel tipo di desiderio di raccontarci molto bene i personaggi, a livello anche di regia con alcuni sprissi che dicono tutto, tranne che televisione, roba cinematografica, stessa cosa per questa seconda puntata, che si riconferma comunque per adesso il prodotto è in, direi che ha questo stampo, io ne sono un gran contento, ne sono molto contento, molto più maturo, molto più cinematografico, non si ha l'idea di una serie tv, ma si ha l'idea di un film spezzato in tante parti. Una delle critiche che viene già fatta subito, cominciamo subito con la parola filler, che non reggo, come non reggo fanservice, ma tra l'altro non so neanche come descrivervi con una parola alternativa, con un modo di dire alternativo, per cui dirò filler e cercherò di evitare fanservice che mi fa ancora più incazzare, per cui sì è una puntata, in realtà sì ha una storia che inizia e che finisce logicamente, ma a me sembra tutto tranne che è una puntata filler, perché va a scavare molto di più sul rapporto dei personaggi, prosegue quello che abbiamo visto nella prima puntata, è uno step successivo per questa avventura, per questa storia, che si concluderà a quanto pare alla sedicesima puntata, per cui io di filler non ho visto niente se non una tappa necessaria per poi raccontarmi questa storia che ancora onestamente non conosco. C'è un grande, secondo me un grande, un difettuccio che potrebbe trasparire, potrebbe diventare un po' noioso come potrebbe sparire in questa puntata, cioè ci sono alcune cose che ricordano veramente troppo The Mandalorian. Prima su tutto il rapporto tra Omega e Hunter, è molto simile al rapporto tra Dean Jarry, il mandaloriano, e Grogo, Baby Yoda. C'è questo attaccamento, c'è questo vedere Hunter, questo clone spietato con la faccia a mezzo teschio che si ammorbidisce davanti a questa bambina, però tutto questo processo in realtà non si sviluppa più in 16 capitoli come in The Mandalorian, ma in due puntate si è sviluppato già tantissimo, per cui mi viene da pensare che sia stato una sorta di prologo per farci capire che questi due personaggi saranno molto legati e da qui in poi si procederà con la storia. Se non fosse così, secondo me sarebbe un parallelismo un po' troppo eccessivo, così come il plot generale che per quello che riguarda il Bad Batch, la Bad Batch è una fuga, loro stanno scappando, non sappiamo dove devono andare, non sappiamo cosa vogliono fare, per cui pian piano cosa vogliono fare, pian piano lo scopriremo andando avanti, ma non c'è ancora un piano ben preciso, per cui queste due cose le ho trovate molto simili al mandaloriano, spero di, tra due o tre settimane, di non dire che sta somigliando troppo a The Mandalorian. Capisco che sia una cosa che funziona, però prendete anche un po' la vostra strada e vedete di, non so, andare oltre, ma secondo me, sono ottimista, stanno già cominciando a cambiare strada, perché ho visto che tutto quello che succede in due puntate è un po' quello più o meno che succede in 16 capitoli di The Mandalorian, per cui mi viene da dire che hanno già girato pagina e andranno oltre. Adesso passo un pochino alle curiosità, sono molto interessanti secondo me, io vi chiedo scusa ma me le sono segnate perché la mia età mi impedisce di imparare così tanta roba in memoria, perché ce ne è un pochino. Partiamo subito dall'intro iniziale, se vi ricordate nella serie The Mandalorian vedevamo una serie di caschi che ci rimandavano alle serie in live action, ai film in live action, mentre qui, già dalla settimana scorsa, vediamo una serie di caschi che invece ci riportano a tutti i prodotti animati di Filoni. Vediamo Chopper, vediamo Bucket di Resistance, vediamo un droide ABX, vediamo Grievous, che c'è anche nella serie animata Clone Wars, Kia che vediamo anche, c'è Bo-Katan, c'è Hunter, c'è Wrecker, ci sono alcuni del Bad Batch e via dicendo. Per cui ci vogliono far capire o che è una casualità, nel senso che questa è una serie animata per cui hanno fatto questa sigla a mo' dedicata alle serie animate, oppure che ci saranno una sorta di due filoni live action e serie animate. Ma queste sono speculazioni che lasciano il tempo che trovano. Poi arriviamo a Salyukami, il pianeta dove, se vi ricordate, c'era il Commander Neo che è uno dei Commander Cloni meno conosciuti, ma è uno di quelli con le armature più fighi in assoluto, quello bianco e rosso con la V, molto semplice, molto figo ed è la scena in cui con la Speeder Bike uccide la propria Jedi, la Jedi che comandava il gruppo di clone appunto di Neo, Stas, Ellie, tutto questo accade in Revenge of the Sith, capitolo 3, episodio 3. Appena arriviamo sul pianeta, vediamo delle Nuna, vi ricordate le gallinelle, quelle che Jabba tira giù durante la gara di Pod Racer nel primo, in episodio 1, l'abbiamo visto anche, se non ricordo male, in The Mandalorian, era uno dei piatti che si poteva mangiare nel ristorantino dove si incontrano con Bo-Katan, Boba Fett e via dicendo, subito dopo vediamo un Nexu, finalmente vediamo una creatura bellissima, una delle creature più belle, secondo me, della Prequel Trilogy, il Nexu, questa sorta di felino con questi occhi multipli rossi, veramente molto pericoloso, era quello nell'arena di Geonosis, se vi ricordate, c'era questo gattone, quello che sbraga la schiena Padme, ecco, rivediamo questa creatura, siccome è una creatura iconica, probabilmente non finirà, e infatti, visto che stiamo qui, stiamo parlando di questa cosa, la ritroveremo più avanti, in un momento importante per uno dei personaggi, che comunque non spoilerò. Arriviamo da due personaggi che abbiamo già rivisto, sono Kat, che è il clone, e Su, sono sposati, sono una coppia, hanno due bambini, e li abbiamo già visti nel decimo episodio della seconda stagione, questo io non me lo ricordavo, chiedo scusa, per cui me lo sono segnato, decimo episodio della seconda stagione di The Clone Wars, per cui è un po' il disertore, tanto che l'episodio in cui ci venivano presentati questi due personaggi, secondo me, si chiamava proprio il disertore, questo me lo ricordavo. Pian piano arriviamo in questa città di Selyukami, una città bella popolata, una sorta di mercato, classica città star warsiana, città, se vogliamo, di Jedha, che abbiamo visto in Rogue One, ricorda molto, con queste navi che passano sopra il cielo, queste torri con tutte le varie scritte in Aura, Besh, e via dicendo, e ritroviamo tantissime razze aliene che abbiamo, che ormai conosciamo, tutte razze conosciute, questa è una piccola forchettatina a tutta la nuova sequel trilogy in cui le razze erano completamente nuove, tranne qualche piccolissima eccezione, ed è una delle cose che mi è piaciuta di meno. Mi sono anche segnato i vari nomi delle razze per cui abbiamo, vabbè, i Twi'lek per forza perché Sue, la moglie di Kat, è una Twi'lek, vediamo i Wickway, vediamo dei tantissimi astrodroide, unità tipo R2, unità R, vediamo un droide di fonderia, il classico droide BD che abbiamo visto anche in The Mandalorian nella puntata che ci viene presentata a Sokatano, vediamo dei Rodiani, dei Gotal, dei Wickway, dei Snivian, dei Beat, vediamo anche un Beat con un Mega Melone, e via dicendo. e per la prima volta, per la prima volta, da quel che ricordo, ma infatti a livello anche cronologico sento, vediamo i cloni, rigorosamente, fase 2, logicamente, abbinati al COG imperiale, per cui questa cosa fa un po' impressione. Se voi poi ci fate caso, comincerete a notare che tutta la parte elettronica dei veicoli, delle astronavi, dei posti di blocco, delle stazioni, e via dicendo, sono molto più trilogia classica che trilogia prequel o The Clone Wars. Per di più, questo modo di disegno, questo modo di mettere in scena questi personaggi, non è così astratto come lo era per The Clone Wars, comincia ad essere un pelino più accurato, per cui, anche tutte le pulsantiere, tutte le console, vi dicendo, ci portano immediatamente in questa sensazione che riguarda molto di più la trilogia classica che la trilogia prequel, e tutto quello che ne è venuto. Vediamo un V-Wing, poi vediamo i trasporti imperiali, i trasporti, in realtà non sono imperiali, comunque quei trasporti classici di Coruscant con la linea che abbiamo visto nella prequel trilogy, molto figo. Veniamo a scoprire qualcosa di più sul codice a catena, parliamo di crediti, parliamo di codici a catena, il codice a catena, vi ricordate, l'abbiamo visto Boba Fett, e qui scopriamo che adesso il nuovo impero galattico vuole registrare tutti dandogli un codice a catena. Prima di questa scelta la Repubblica il codice a catena li dava solo ai ricercati, infatti Boba Fett aveva il suo codice a catena perché comunque era un... faceva parte insomma dei ricercati, questo cacciatore di tagli illegale e via dicendo. Mi immagino che sia un po' un modo per marchiare la feccia della galassia in un certo senso, no? Mentre qui diventa una roba molto nazi secondo me, cioè dobbiamo registrare tutte le pressioni dandogli questo codice a catena che non è altro che una sorta di carta di identità dove c'è tutto quello che riguarda il singolo essere alieno insomma popolano della galassa. Ok, troviamo diverse alcune cose che ci riportano in solo, la dogana dove gli chiedono i documenti in questo cassettino che ricorda molto il momento in cui Kira e Solo passano il coassio ha l'addetta al passaggio e per finire nel momento finale vediamo Wrecker che è sulla loro nave tra l'altro di cui è uscita la presentazione del modello Lego in arriva tra pochissimo fa i pesi con un gong e anche questo è tipicamente tecnologia classica e non più le versioni un po' più elaborate della tecnologia prequel. Bene, anche questa volta abbiamo finito sono 12 minuti sono tantissimi frega niente ci vediamo venerdì prossimo per la testa puntata e vediamo come comincia a saltare fuori un po' di cizia quella bella curiosità quei belli easter eggs che mi casano sempre tantissimo bella voi a sto punto vi dico buonanotte ma in realtà voi lo vedrete che sarà giorno per cui buona giornata e buon sabato ciao